Ciao a tutti, ebbene sì, Alpha Woman mi ha fatto rimuovere il video così che mi ha fatto rimuovere uno dei due video dei parco giochi e purtroppo non so come risolvere la faccenda, ho contattato YouTube e ho anche uno strike sul canale per chi se lo fosse perso era un video di critica alla risposta che avevano dato ai parco giochi che a loro volta avevano criticato la pagina Facebook di queste Alpha Woman che è una cosa, una spazzatura veramente unica il gestore del canale YouTube mi ha risposto dicendo che non sono stati loro a mandare la segnalazione quando in realtà sono stati loro per forza perché uno, ha smesso di rispondermi e non ha sbloccato la situazione e due, non è una segnalazione normale ma solo il proprietario del canale può mandare quindi mi stanno raccontando stronzate, in più non mi rispondono su Facebook, non mi rispondono a nessuna parte spero che domani mi risponda YouTube perché per adesso ancora non si è fatto vivo nessuno e in ogni caso è una seccatura enorme, sono dei codardi, gli acchi eccetera, tutto quello che mi viene in mente tranne, vi ricordate la parola tabù del video in questione, del video della tizia, di Alpha Woman non sono troie, no, non sono troie, lo ribadisco, non sono delle fottute troie chiaramente sono abbastanza demoralizzato visto che il video stava andando piuttosto bene avevo fatto anche la sponsorizzazione su Facebook per farlo vedere un po' più in giro quindi visto che ci avevo impiegato anche 8 ore perché non sembra che anche fare video in risposta comunque c'è bisogno di editing, scrivere quello che cavolo vuoi dire, battute stronzate ed ero contento che molti di voi avessero commentato, risposto dicendo che era un bel video eccetera e spero di poterlo riavere al più presto, ricaricare al più presto altrimenti lo caricherò su Facebook, sulla pagina Facebook, trovate il link in descrizione ho provato a contattare anche i Farco Giochi perché considerato che la loro fanbase è molto più grande della mia magari loro troveranno il modo di risolvere la faccenda comunque per adesso cercherò di pensare al prossimo video, alle prossime live penso che ci saranno live domenica sera, domani sera come sempre quindi vi aggiornerò e nel frattempo ci vediamo ciao